La cronaca quasi quotidianamente riporta episodi di violenza tra i più giovani. A Roma una minorenne ha accoltellato una coetanea. Questa aggressività degli adolescenti è frutto di un disagio sociale? In questo caso addirittura un episodio che fa segnare una vera e propria aggressione, anche fisica, anche con coltello, quindi con lesioni molto serie da parte della persona offesa. Adesso l'episodio andrà in qualche modo sceverato, perché sembra riconducibile a dinamiche interpersonali legate ad alcune vicende personali tra le due ragazze. Però è evidente che questa aggressività in qualche modo testimonia ulteriormente questo disagio giovanile che in certi strati della popolazione giovanile e soprattutto in certi ambiti della città sembra emergere sempre di più.